Oh, qui è che la misura, eh, ragazzi? E' ben mega, eh? Grande bonaggio! Scusate, dobbiamo filmare un po' tutto questo, eh? Uno. Ciuba. Scusate, dobbiamo filmare un po' tutto questo! E' un cristiano pareccellino! E' un po' tutto questo! E' sempre stato... E' un cristiano peggio sta peggio! E' un cristiano peggio sta peggio! Grande titolo, motociclista! Super motociclista! A mano! Super mi golla! Mi golla che tu marò! Qui sono i vecchi ragazzi, che che i vecchi, che i vecchi, che i vecchi, che i vecchi! Siamo i due? Siamo i due! Super Topo! Super Topone! Te ve li in rete! Avete già 5.000 persone che mi sono andate a vedere! Pippo! 5.000! E' il Topo! Il Topone! Il Topone ragazzi! Quanti addominali hai fatto? 1.200 come giornalieri! 1.200 giornalieri! 1.200! 1.200 giornalieri 1.200 giornalieri